La dimora di Maria e Giuseppe e Gesù nella grotta di Betlemme non è che durò mesi, anni, no, durò pochi giorni anche perché il censimento andava avanti per cui molte abitazioni fittate dai pellegrini venivano lasciate perché i pellerini ritornavano alla loro destinazione. In questo caso Giuseppe, Maria e Gesù prendono alloggio non più nella grotta ma in Betlemme, in una casa di Betlemme. Ed è qui, in questa casa di Betlemme, che arrivano i Maggi ed è qui nella casa di Betlemme che viene imposto il nome di Gesù al bambino e figlio di Maria. La legge mosaica prescriveva che 40 giorni dopo la nascita del primo figlio i genitori si recassero al Tempio di Gerusalemme per offrire il loro primogenito al Signore e per la purificazione della madre. Il rito compiuto su Gesù non ha questa prerogativa perché quando una famiglia riceveva il primo figlio andava al Tempio di Gerusalemme e offriva il bambino a Dio, Dio abdonato, ma viene fatta l'offerta a Dio. Nel caso di Gesù è Dio che presenta Gesù agli uomini e di fatti lì nel Tempio di Gerusalemme ci sta il vecchio Simeone e la profetessa Anna. Perché si trovano? Si trovano perché erano persone del Tempio che passavano molte ore nella preghiera al Tempio. E anche per ispirazione del Signore si trovano lì. E quindi quanto Simeone vede il bambino, la mamma e Giuseppe, lo prende e lo presenta al mondo intero come salvezza offerta a tutti i popoli, come luce che illuminerà le genti. Ecco, quindi allora il primo gesto ufficiale della presentazione di Gesù l'abbiamo nel Tempio, proprio dalle mani del vecchio Simone. La liturgia si ripete altre volte, anche oggi, nel Nuovo Tempio, la Chiesa. Gli uomini incontrano Cristo nella Chiesa. Lo ricevono nell'Equaristia. Cioè Gesù entra dentro di una persona che si fa la comunione dentro ciascuno di noi. La parola diventa nostro nutrimento. Allora, mentre per Gesù vi è stata solo quella cerimonia, per noi comincia col battesimo e si prolunga per la nostra vita. Ogni volta che andiamo in Chiesa ci cibiamo dell'Eucharistia. Quindi Gesù diventa nostra carne, nostro sangue. Poi ascoltiamo la parola della Bibbia, del Vangelo. E se stiamo attenti, come dobbiamo essere attenti, questa parola entra dentro di noi e diventa carne. Cioè la parola ci dice, amatevi gli umiliati come io ho amato voi. Noi la facciamo carne e amiamo gli altri. Allora praticamente Gesù che viene dentro di noi diventa carne e continua il suo miracolo dell'amore fraterno. Oggi è la festa della Cantelora, la festa della Cantela. Cos'è questa cerimonia della Cantela? Non è un semplice rito che si accende alla Cantela, che poi la possiamo portare anche a casa. Ma la Cantela la teniamo accesso in Chiesa e serve solo per la cerimonia della Chiesa. Attenzione con la Cantela, allora, c'è questa cerimonia della luce. Ciascuna di noi che tiene dentro di sé Cristo Signore è la parola di Gesù, la parola del Signore. Noi diventiamo luce con la nostra vita. Quindi non siamo soltanto luce per noi stessi, ma luce per coloro che ci sono vicini, compresi i familiari, anzi principalmente i familiari, nel nostro ambiente e nel nostro modo di agire anche sul posto di lavoro. Noi diventiamo luce per noi.